Musica Buonasera, buonasera a tutti voi, bentrovati dalla nostra redazione. Sequestrate numerose quantità di prodotti etnici di provenienza sconosciuta a Catania, l'operazione Denas, tra le sanzioni previste è anche la chiusura di attività commerciali. Ma sentiamo. Si celebra oggi la giornata mondiale della sicurezza alimentare, iniziativa internazionale istituita nel 2019 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura e Codex Alimentarius e dal Ministero della Salute, Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nelle ultime settimane ha eseguito una campagna di controllo mirata al contrasto delle forme illecite di commercializzazione di prodotti etnici importati e distribuite su ambie aree del territorio nazionale, spesso caratterizzati dall'assenza dei requisiti merceologici e igienico-sanitari. Le verifiche effettuate presso grossiste distributori di alimenti etnici sono state volte ad accertare le condizioni igienico-sanitarie e strutturali degli ambienti, l'attuazione delle procedure di sicurezza alimentare e tracciabilità, nonché la posizione contrattuale delle maestranze e il possesso di una adeguata formazione professionale. In tale contesto, in asse di Catania, a seguito del controllo su un mezzo adibito al trasporto di alimenti e riconducibili ad un'agenzia commerciale rumena, avendo sede logistica a Catania, hanno proceduto al sequestro di complessivi 1.500 kg di prodotti di carne di origine suina proveniente da zone estere soggette a restrizione destinate a grossisti siciliani e introdotte nel territorio nazionale in violazione dei vigenti regolamenti comunitari, segnalato pertanto alle autorità sanitarie il cittadino rumeno, referente locale dell'agenzia commerciale. Il valore delle carni sequestrate corrisponde a 30.000 euro. Nella stessa provincia tinnè è stata sequestrata anche un'attività commerciale all'ingrosso di alimenti etnici costituita da un capannone prefabbricato di tipo industriale, dove all'interno di celle frigorifere sono state rinvenute circa 25 tonnellate di prodotti di carni e prodotti ittici importati illegamente in cattivo stato di conservazione in considerazione delle gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali rilevate in tutti gli ambienti e della copiosa presenza di escrementi di eroditori. Rinvenuti in sostanza specie ittiche all'octone vive gambero della Louisiana in sostanza di cui non è consentito il commercio nel territorio europeo, per cui è stato avviato l'iter per l'immediato abbattimento e smaltimento, denunciato a piedi liberi cittadino extracomunitario di origine cinese titolare dell'attività. Il valore della struttura equivale ad un milione di euro e quello degli alimenti posti sotto sequestro a circa 500.000 euro. Inoltre sono stati sequestrati anche 4.000 kg di alimenti etnici dal valore di circa 50.000 euro, prevalentemente vegetali, confezionati su pallet e senza alcuna indicazione commerciale attestando la rintracciabilità rinvenuti in un deposito abusivo di alimenti etnici di Catania, dove era in corso il carico di derrate alimentari su autoveicoli e di commercianti privati. Sospesa infine immediatamente l'intera attività, il cui valore corrisponde a circa 200.000 euro, totalmente priva di autorizzazioni amministrative e sanitari, segnalato alle autorità competenti il gestore, un cittadino extracomunitario di origine bengalese. Primo respiro di sollievo a Biancavilla per quei nuclei familiari con persone disabili che necessitano di assistenza. È stata una cittadina biancavillese, Giussi Di Stefano, una settimana fa sui social lanciare l'allarme sulla sospensione improvvista del servizio e dopo essersi rivolta alla regione e alla prefettura, l'assistenza è di fatto ripartita già dalla giornata di oggi. Ma sentiamo i dettagli. A Biancavilla riparte il servizio di assistenza domiciliare alle persone con disabilità. Oggi alcuni degli utenti hanno potuto beneficiare nuovamente di quelle ore di assistenza, ancora poche in verità, per poter svolgere quelle attività della vita quotidiana. Una buona notizia per gli utenti che necessitano di una preziosa assistenza. Appena una settimana fa era stata una cittadina di Biancavilla, Giussi Di Stefano, a comunicare l'azzeramento improvviso del servizio. Da noi, sentita questo pomeriggio, Giussi Di Stefano racconta le peripezie per vedere riconosciuto un doveroso aiuto di solidarietà sociale. Dopo un tira e molla sulle responsabilità circa l'attivazione dell'assistenza tra il comune di Biancavilla e il distretto sociosanitario Adrano-Biancavilla-Santa Maria di Licoddia, Giussi Di Stefano si è prima rivolta alla regione siciliana attraverso l'assessorato di riferimento e poi ha pensato bene di sentire telefonicamente pure gli uffici della prefettura di Catania. In quest'ultimo caso, secondo quando racconta la cittadina biancavillese al nostro Tg, è stato ribadito che è il comune di residenza a dover garantire la continuità del servizio per le persone con disabilità, individuando le doverose coperture finanziarie e relazionando al distretto sociosanitario di competenza sul fabbisogno effettivo di utenti che il comune necessita per poter avere poi trasferite le relative somme regionali. Insomma, Giussi Di Stefano ha cercato di vederci chiaro fino in fondo e ha interpellato tutti gli endi istituzionali. Del resto è da sempre una tenace combattente che non si arrende e non si lascia coinvolgere da chi vorrebbe persino speculare sulle sue battaglie che rappresentano in realtà esclusivamente battaglie di civiltà. Sarà una coincidenza, ma oggi il servizio è ripartito e da quattro ore settimanali si dovrebbe passare a otto per Giussi e la sua famiglia che tra la decina di nuclei familiari in possesso dei requisiti per il servizio a Biancavilla è l'unica ad essere composta da due persone con disabilità motorie non indifferenti e anche tramite Videostar, Giussi Di Stefano, esprime un certo sollievo per la riattivazione del servizio anche se, sottolinea, bisogna incrementare le ore come in passato quando oscillavano tra 24 e 20 ma soprattutto bisogna assicurare una continuità nell'esecuzione del servizio per non lasciare abbandonate da un giorno all'altro famiglie che ne hanno bisogno. Del resto, pretendere un servizio per legge riconosciuto non rappresenta una richiesta di un favore o una concessione ma un sacrosanto diritto che deve essere in cima alle priorità di una comunità perché nessuno deve rimanere indietro o, peggio ancora, far sentire qualcuno in colpa per colpe che in realtà non esistono. Operai a lavoro da oggi per asfaltare un tratto del Viale dei Fiori a Biancavilla. Questa mattina è effettuato un sopralluogo dai tecnici del Comune e dal Sindaco Bonano. Al via oggi i lavori di ammodernamento del Viale dei Fiori a Biancavilla operai a lavoro per scarificare un lungo tratto di strada per poi essere riasfaltato ad agevolare il lavoro degli operai gli agenti della Polizia Municipale che hanno transennato l'area interessata deviando così il traffico veicolare per le vie alternative. L'intervento su Viale dei Fiori rientra in un progetto più ampio che vede anche la risoluzione definitiva, si spera, della problematica dell'accumulo dell'acqua piovana che si verifica ad ogni temporale creando forti disagi alla circolazione stradale addirittura interrompendo il collegamento con la vicina città di Adrano. Questa mattina a fare un sopralluogo il Sindaco. Proseguono i lavori su un finanziamento che abbiamo ottenuto che hanno già interessato l'arteria di via Monsignor Calaciura, di via della Montagna e continuiamo a sistemare strade, a asfaltare strade. Sono 4 km il percorso delle strade che verranno totalmente asfaltate in questo primo intervento, ne partiranno altri nei prossimi giorni e ci sarà, come appunto sono detto oggi, se ci interessiamo dell'ammodernamento del tratto di Viale dei Fiori. Non faremo solamente l'asfalto nuovo su tutta l'arteria ma faremo anche degli interventi di messa in sicurezza ripristinando i marciapiedi, di messa in sicurezza stradale installando degli autovelox su Viale dei Fiori per moderare la velocità e poi l'ultimo intervento che è quello più importante ed è quello più atteso su cui abbiamo lavorato in questi anni per risolvere una criticità che avevamo trovato da tempo è quello di risolvere l'allagamento di Viale dei Fiori. Verranno realizzate delle vasche di laminazione con l'installazione di pompe di rilancio che risolveranno il problema dell'allagamento di Viale dei Fiori un problema che era assolutamente importante perché durante gli acquazzoni estivi creava un blocco stradale e quindi su questo siamo ovviamente soddisfatti dell'inizio dei lavori e ci auguriamo di poter chiudere i lavori entro il mese di giugno. Una piazza intitolata San Bernardo da Corleone cerimonia questo pomeriggio ad Adrano alla presenza di tre vescovi dopo la svelata della targa toponomastica e una lapide, la lapide commemorativa è stata celebrata la Santa Messa all'aperto. Vediamo. La città di Adrano dove è forte la devozione per il Santo Cappuccino Bernardo da Corleone ha dedicato un piazzale a frate santo protettore delle donne in dolce attesa. San Bernardo da Corleone, deceduto nel 1667, è stato proclamato santo nel 2001 dal Papa San Giovanni Paolo II. E questo pomeriggio alla presenza del sindaco di Adrano Fabio Manguso, assessore e consigliere comunale nonché rappresentante delle forze dell'Odine, si è svolta la cerimonia di intitolazione del piazzale con la svelata della targa toponomastica e della lapide commemorativa. È stata celebrata una Santa Messa all'aperto preseduta dall'accevescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, e concelebrata dall'accevescovo emerito di Catania, Salvatore Cristina, e dal vescovo di Nicosia, Giuseppe Schillaci. A concelebrare anche fra Pietro Giarracca, ministro provinciale del Cappuccino, e il clero locale. Una cerimonia nella quale hanno preso patta anche i rappresentanti della giunta comunale della città di Corleone. Dal palco, il capo della chiesa catanese, Monsignor Renna, ha annunciato che si sta lavorando con tutte le parti interessate alla nascita di una chiesa proprio nel quartiere Adranita, dove è stato intitolato il piazzale a San Bernardo da Corleone. Il San Bernardo da Corleone, un padre cappuccino, proprio il parroco di Santa Maria degli Angeli, e la comunità cappuccina qui ad Adrano, ha portato la devozione a questo santo cappuccino della Sicilia occidentale, invocato in modo particolare dalle partorienti, perché il loro parto, la loro gestazione, giunga a buon fine. Si è subito diffusa questa devozione. Devo dire che sono tante le donne, anzi le famiglie, che ringraziano San Bernardo. Un santo cappuccino umile, che è stato tra la gente, un grande convertito, perché era un uomo particolarmente esperto con la spada, è molto affascinante la sua storia, richiama in qualche modo quella di Fra Cristoforo, dei promessi sposi. Ma mi piace sottolineare un santo della vita, un santo che aiuta le famiglie ad accogliere la vita come un grande dono di Dio, di cui oggi abbiamo particolarmente bisogno nella nostra società. Un esempio di un santo attuale? I santi, proprio perché rispecchiano il Vangelo e il Vangelo è attuale, sono sempre attuali. Bisogna saper cogliere la loro peculiarità e calarla nel nostro tempo. E questo, per San Bernardo da Corleone, è molto facile. È un po' particolare come devozione qui ad Adrano, perché San Bernardo sappiamo bene che è vissuto nella parte della Sicilia occidentale, in modo particolare a Palermo, originale da Corleone, poi tanti anni è vissuto a Palermo. Però certamente è quella santità che si diffonde, poi quella santità si diffonde, per cui, ecco, arrivare qui da Corleone, da Palermo, arrivare ad Adrano, penso che sia dovuto anche a quella che è stata un po' la devozione diffusa dai frati Cappuccini. Infatti, come ministro provinciale dei Cappuccini di Sicilia, noto che in quasi tutti i conventi abbiamo un'iconografia di San Bernardo, perché è stato certamente un santo vissuto in questa regione, un santo che è vissuto anche con uno stile di vita particolare, che è stato quello di conformarsi a Cristo Gesù, passando attraverso la penitenza, passando attraverso la mortificazione, passando attraverso la preghiera in modo particolare. Per cui, un santo che tuttora ne gustiamo proprio l'intercessione. E quindi, penso che essere qui ad Adrano oggi per dedicare una piazza a San Bernardo, anche per quello che è successo ad Adrano, il dono dei figli, una mano misteriosa, è proprio questo il frutto di quell'intercessione che è ancora viva e fruttuosa di San Bernardo. Perché questo spazio inditolato a San Bernardo? Ma perché ci sono molti devoti a San Bernardo qui, ad Adrano, e che hanno ricevuto diciamo dei miracoli, e quindi rispetto a questo c'è questa vicinanza a questo santo e noi siamo ben felici di poter dare un segno tangibile a quello che può rimanere nella storia. Quindi l'intitolazione di una piazza dove passano migliaia di giovani la mattina, qui vanno, le scuole sono tantissime, le scuole di formazioni, questo è un luogo dove si riuniscono tanti giovani alla sera con qualche schiamazzo in più che dobbiamo assolutamente regolare, quindi da oggi è un segnale importante, speriamo che sarà un luogo rispettato anche dai giovani che lo frequentano. Ecco, un santo dove ad Adrano è forte la devozione, perché? Ma perché vuol dire che avrà fatto nel corso della sua vita e poi con quello che ha lasciato delle cose molto positive, mi raccontano i devoti di situazioni molto belle, di mamme che non potevano essere mamme che sono riusciti appunto senza nessuna cura, senza nessun intervento poi a coronare il sogno di avere dei figli, quindi questo vuol dire che c'è qualcosa di importante in questo santo e che il riconoscimento della nostra città va appunto a questi miracoli che per molti sono veramente fonte di vita. Per noi è un grande piacere essere qui questa sera, motivo di gioia perché portare il nome di Corleone anche qui nella provincia di Catania e far conoscere il bello e il positivo della nostra città attraverso il nostro santo corleonese è qualcosa di veramente importante, quindi ringraziamo l'amministrazione di Adrano che ci ha invitati ovviamente e alla scelta ecco da parte della comunità religiosa che è qui ad Adrano per intitolare questa piazza al nostro santo concittadino. Un santo che praticamente nonostante non fosse presente qui sul territorio quando ha vissuto però è forte la devozione? Sì, l'ho saputo attraverso alcuni componenti della confraternita di San Bernardo da Corleone a noi fa veramente piacere, siamo infatti qui per testimoniare la nostra presenza e siamo veramente orgogliosi appunto di questa scelta. L'amministrazione comunale di Biancavilla comunica che da oggi è ripresa la raccolta porta a porta dei sacchetti della cenere vulcanica ricaduta in città nelle scorse settimane. Sentiamo. A Biancavilla è ripresa oggi la raccolta della cenere vulcanica in tutto il territorio a comunicarlo è il sindaco Antonio Bonanno che in una nota specifica che in questi giorni le operazioni di pulizia sono andate a rilento a causa delle cattive condizioni del tempo e anche per la difficoltà del reperimento di una discarica autorizzata. Nonostante gli impedimenti ad oggi sono state raccolte e conferite oltre 100 tonnellate di cenere piovuta dal vulcano. Il primo intervento ha interessato le arterie stradali principali e le scuole cittadine dice il sindaco Bonanno. La raccolta della cenere andrà avanti per tutto il mese di giugno. A breve sarà reso noto un calendario con le indicazioni delle zone nelle quali verrà effettuata la raccolta. Vi ricordo conclude Bonanno che la cenere vulcanica può essere conferita anche al centro raccolta comunale. La sabbia vulcanica è ricaduta in città lo ricordiamo domenica 21 maggio dopo essere stata espulsa dal vulcano e trasportata dal vento cenere che ha ricoperto tutto di nero. A ripulire le vie e le strade della città è stato un esercito di donne e uomini che armati di buona volontà hanno raccolto e imbustato per l'appunto la cenere che adesso si spera finalmente potrà essere rimossa. Saranno ripulite e bonificate le micro discariche delle strade provinciali che ricadono nel territorio di Paternò. Ieri l'incontro tra i tecnici della città metropolitana è la ditta che eseguirà i lavori. I funzionali del comune di Paternò la polizia municipale con la ditta d'asti avvieranno i lavori nella SP 57 e nella SP 137. La nostra speranza è che una volta ripulite i cittadini aiutino a mantenere pulite queste zone perché il decoro è il nostro biglietto da visita spiegato così il sindaco Nino Naso. A Paternò al via il progetto di street art per abbellire i locali di attesa della stazione della Ferrovia Circumetnea a realizzare le installazioni artistiche sono stati gli allievi del liceo artistico Rapisardi. Oggi l'inaugurazione. Vediamo. Ci troviamo a Paternò in piazza della stazione questa mattina all'interno della struttura è stata inaugurata un progetto di street art ossia i ragazzi del liceo artistico Mario Rapisardi di Paternò in collaborazione con la FCE il comune di Paternò hanno ridato vita con dei disegni in cui viene illustrata la storia di Paternò ma anche della Sicilia proprio la sala le due sale di attese della stazione della città Paternese si tratta di un progetto elaborato dalla giornalista Francesca Putrino che ha visto in queste settimane la luce grazie all'opera dei ragazzi del liceo artistico Mario Rapisardi il progetto nasce dalla volontà e dall'idea di far sentire sempre di più il territorio ai ragazzi che hanno dimostrato appieno quanto tengono a Paternò e non solo questo progetto che vedete sicuramente alle immagini ha una continuità all'ingresso un omaggio alla nostra città a Catania alla Sicilia l'idea di ampliare la propria mente è spaziare tantissimo e poi nella seconda sala abbiamo un omaggio a tutti agli anziani alle famiglie ai ragazzi a chi in questa sala di aspetto ovviamente riflette in qualche modo per prendere poi la litorina e andare nel posto ovviamente prestabilito noi crediamo ancora in Paternò vogliamo che i nostri ragazzi abbiano la voglia e il desiderio di restare in questa città in modo tale da sentirla sempre più loro e ampliare questo colore in una città che molto spesso da alcune persone è considerata troppo grigia questa è stata una sinergia una convenzione importante comune la scuola e la ferrovia circunmettene avete visto cosa hanno realizzato i nostri ragazzi io appena sono entrato e ho visto il disegno il castello la nostra Santa Barbara la nostra la runghia la nostra rana le nostre origini sono state felici veramente e poi fatte con tanta professionalità gli insegnanti e la scuola sono state bravissime ma meravigliosi i nostri ragazzi i ragazzi hanno realizzato un'opera d'arte sono i ragazzi della terza e della quarta del liceo artistico e con un protocollo che abbiamo firmato proprio col comune di Paternò e l'FCE abbiamo dato loro la possibilità anche di svolgere questa attività come PCTO quindi come percorso di alternanza scuola lavoro nel quale loro hanno messo in pratica le competenze e tutto quello che conoscono per realizzare un ambiente che speriamo venga mantenuto veramente proprio perché è fatto proprio dai ragazzi di Paternò ed insiste sulla territorialità la cosa importante è che quello che i ragazzi hanno fatto ha reso questo luogo molto simile alle stazioni delle grandi città europee coinvolgere giovani generazioni a essere parte attiva in questi processi di trasformazione dell'infrastruttura fa sì che loro stessi si sentano coinvolti e partecipi e questo termine anche quando verranno qui utilizzate la metropolitana sarà motivo di orgoglio farlo vedere ai loro amici o ai loro parenti quello che hanno fatto questa cosa bella sono iniziative molto importanti che possiamo di replicare in altre circostanze anche nelle nuove stazioni della metropolitana e questa mattina abbiamo approfittato della presenza del direttore generale della FCE Salvatore Fiore per chiedere a che punto si trova l'iter per la realizzazione del tratto della metropolitana mister Bianco Paternò sentiamo cosa c'è detto il completamento del tratto della metropolitana mister Bianco Paternò a che punto è l'iter mister Bianco Paternò abbiamo già in corso la gara e il 15 di questo mese arriveranno le offerte quindi già siamo in una fase di definizione della procedura di gara speriamo di chiuderla velocemente in modo da poter avviare i cantieri se non entro l'anno i primi dell'anno prossimo 729 milioni ci sono tutti? una parte ci sono l'altra parte le stiamo reperendo però possiamo iniziare comunque con la grande parte che abbiamo già finanziato e quindi nel frattempo reperire altre risorse per completarlo entro le zone temporali di riferimento il PNRR la comunità assistita terapeutica assistita Cenacolo Cristo Re di Biancavilla ha avviato una campagna di sensibilizzazione per il superamento del pregiudizio della malattia mentale la campagna è indirizzata alla popolazione giovanile ad essere coinvolti gli studenti delle scuole medie biancavillesi Luigi Sturzo e Antonio Bruno a Biancavilla avviata una campagna di sensibilizzazione al superamento del pregiudizio della malattia mentale da parte della comunità terapeutica assistita Cenacolo Cristo Re di Biancavilla coinvolti nella iniziativa di educazione sanitaria ai giovani delle scuole cittadine grazie alla disponibilità delle dirigenti scolastiche Concetta Drago per la scuola media Luigi Sturzo e Maria Patrizia Gumina per l'istituto comprensivo Antonio Bruno che hanno permesso anche l'esposizione di lavori grafico pittorici eseguiti dai pazienti e curati nel laboratorio dalle educatrici Vincenza Cunzolo Finuccia Dagati e Rosalba Nicotra nonché altri elaborati realizzati nei laboratori creativi curati dalle educatrici Lina Maglia e Antonella Salomone operatori dell'equipe multidisciplinare della struttura gli psichiatri Gaetano Interlanti e Giampaolo Di Pietro la pedagogista Elena Nicotra e le educatrici Anna Lena Parisi Elisa Salomone e Palmina Strano hanno incontrato nelle aule magne dei rispettivi istituti scolastici gli studenti delle terze medie accompagnati dai professori porgendo loro indicazioni di conoscenza e sviluppo del disagio mentale e modalità di approccio a tale patologia sono state illustrate le attività socioeducative e clinico-riabilitative che si sviluppano all'interno della struttura evidenziandone il percorso di rispetto della persona nella sua totalità e valorizzandone le capacità e le risorse individuali ai giovani è stato fatto visionare il cortometraggio Aspettando l'Alba curato dall'educatore Filadelfio Grasso realizzato all'interno della comunità con il coinvolgimento di ospiti e operatori l'obiettivo di educare all'abbattimento dello stigma in modo particolare coinvolgendo le fasce giovanili ha certamente riscorso un primo risultato positivo atteso l'attento e motivato interesse dei presenti gli incontri sono stati coordinati da Salvuccio Furnari pedagogista già in servizio al Dipartimento di Salute Mentale del distretto di Adrano tale attività auspicata dal direttore generale Giosuè Greco col supporto del coordinatore amministrativo Vincenzo Conti si colloca nell'ambito dei progetti di informazione e conoscenza della presenza della comunità terapeutica all'interno del territorio oltre che in un'ottica complessiva di prevenzione sanitaria e con questa bella iniziativa a primo momento è tutto noi ci fermiamo qui grazie come sempre per averci seguito a tutti voi l'augurio di una buona e serena serata a tutti i nostri